Due palchi, oltre 55 esibizioni tra band e solisti, 15 minuti a testa per intrattenere il pubblico. Sono soltanto alcuni dei numeri di Con il Cuore nel Fango, non l'ennesimo talent, ma una maratona a concerto lunga almeno 8 ore, una vera e propria staffetta musicale a fin di bene in programma domenica 23 ottobre alla Rocca Malatestiana di Fano. L'intero incasso di questa sorta di concertone in stile primo maggio sarà infatti devoluto ai comuni colpiti dall'alluvione dello scorso 15 settembre. Il termine giusto è proprio come hai detto maratona, maratona concerto. Tecnicamente mentre una band suona l'altra si prepara, quindi una musica senza interruzione per circa 8 ore. La musica di tutte le band del territorio. Cancelli aperti già dalle ore 14, poi musica non stop dalle 15 fino alle 23. Il biglietto di ingresso sarà di appena 10 euro. Questo biglietto donazione, è più giusto chiamarlo donazione perché in realtà va direttamente nelle casse della Caritas, sarà quindi completamente devoluto alla causa. Puntiamo a fare un incasso importante, avere tanta gente, a devolvere completamente tutto. Con questa donazione si riceverà un braccialetto che permetterà l'ingresso e l'uscita dalla Rocca durante la giornata, quindi le donazioni possono essere illimitate, poi logicamente staremo attenti a far entrare negli spazi adibiti quelle che sono le persone per legge contemporaneamente. Questa attività non ha costi perché sono stati tutti sostenuti da chi ha messo il proprio lavoro, le proprie attrezzature, quindi è un incasso netto, diciamo così, al quale si aggiunge anche quello dei food truck partecipanti, nello specifico Marasma e Rocket Truck, che hanno aderito all'iniziativa, hanno accolto l'invito di darci una mano per comunque dar ristoro alle persone che verranno, ma non solo, devolveranno tutto il loro incasso al netto, logicamente, dei costi vivi che hanno per sostenere questa cosa alla situazione. Non solo musica però, per l'evento è infatti previsto un breve momento di riflessione e di condivisione. Ci sarà anche un momento, diciamo, istituzionale centrale dove abbiamo invitato tutti i sindaci del territorio, oltre a delle persone che porteranno delle testimonianze di quello che hanno vissuto. Saranno proiettate delle immagini, perché non ci dobbiamo dimenticare che questa cosa viene fatta sia per raccogliere i soldi, ma anche per non dimenticare ciò che di terribile è successo poco più di un mese fa. A me ha colpito tantissimo nell'organizzare questa cosa proprio una telefonata che ho fatto a un ragazzo, al quale ho detto dai vieni a suonare con noi, io l'ho dato per scontato che lui ci sarebbe stato, ma mi ha risposto, ho detto guarda non posso venire perché non c'è più gli strumenti. Infatti pensavamo anche, poi tra noi band metteremo anche un'urna per cercare di raccogliere qualcosa destinato specificamente da lui. La proposta del mega concerto ha subito fatto breccia. Gli artisti di costa e di entroterra hanno aderito in massa, tanto che in diversi non sono riusciti a trovare spazio nella fittissima scaletta di Domenica. Altre band ci hanno chiamato, logicamente con dispiacere abbiamo dovuto dire di no, non è nostra caratteristica, anzi dispiace molto, però c'è un palinzesto oltre il quale non si può andare a ridurre questi spazi ancora di più rispetto ai 15 minuti sarebbe stato praticamente impossibile. Quindi invitiamo le band che non hanno trovato spazio sul nostro palco comunque a venire a partecipare, a diffondere la musica perché noi siamo, come io e Luca qui oggi, una rappresentanza di quella che è la musica del territorio. Questa è una bella iniziativa perché parte da uno stimolo di alcuni giovani, ma è bella perché non è un'iniziativa di fan, è un'iniziativa del territorio. Voglio ringraziare veramente tutti questi ragazzi che si adoperano e invitare tutti a partecipare nell'arco delle tante ore di musica perché si scoprono i nostri musicisti del territorio che magari non si conoscono e nello stesso tempo facciamo un gesto che diventa un aiuto concreto. L'invito assolutamente è per domenica, dalle due in poi. Vorremmo veramente una rocca piena di gente perché anche se sono momenti difficili questi che stiamo vivendo, però certi eventi fanno bene il cuore e veramente ci fanno ben sperare.